chiosco bar oro nero e anche distributore di benzina esso, cambio olio lavaggio auto a 10 euro vieni a provare la nostra offerta colazione caffè mignon a 1 euro caffè più colazione 1 euro e 20 caffè più tavola calda 1 euro e 80 menù focacce farcite con bibite e caffè 4 euro e 90 un ambiente accogliente e tavola calda sempre fresca come va? grazie 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 vi aspettiamo anche a pranzo con panini, piadine e primi piatti inoltre troverete una grande varietà di torte vi aspettiamo allora qui in via Messina al chiosco bar oro nero anche la domenica siamo aperti esso, chiosco bar lavaggio, in via Messina 684, Catania telefono 095 49 48 20 grazie a tutti 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 grazie a tutti